Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora i prossimi giorni per me saranno molto intensi a livello lavorativo perché ci sono delle navi molto importanti sia Venezia che Trieste e quindi ci do dentro adesso per lavarmi i capelli e volevo fare la terza applicazione del ProLiscio Vital Care, ok? Proseguiamo. Come maschera però questa volta voglio usare questa della Pantene SOS Shots di Scefetto Seta, vediamo un po' come sarà ed eccomi qua, sì una pettinatura un po' strana comunque ho lavate i miei capelli, devo dire che le prime impressioni per quanto riguarda Pantene sono ottime perché ha un profumo davvero delicato, molto buono e nonostante si tenga in posa solo un minuto ho sentito subito l'effetto liscio e cioè me li ha lisciati e ammorbiditi quindi vedete? Poi è bastato spazzolarli e già sono lisci rispetto alle altre volte procediamo con l'asciugatura. Allora questa è la prima parte dell'asciugatura avete visto la spazzola che ho usato? La spazzola che ho usato? Insomma ragazzi direi non male no? Per essere un'asciugatura a metà. Procediamo. Caro spazzola termica, mettitela via. Tu non sarai mai come la Dyson che in questo momento vorrei fortemente qui con me, che io odio farmi la piega con questa perché sono impedita, non mi piace per niente. Quindi mi dispiace ma dobbiamo dirci addio. ed eccoli qua i miei capelli vital care misto pantenna. Dai, non male. Poi a me piace il capello appunto che non sia propriamente dritto, 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 dritto. Mi piacciono molto di più al naturale. Bene, adesso sono le 18 e 25, vado a dare da mangiare le mie belve, poi cucino qualcosa per me. Magari riesco a vedere un po' di televisione perché domani mattina ci si sveglia alle 4. Eh sì, dura la vita di una stessa volte, però bellissima. Ciao a tutti!